Ma è possibile conoscere Dio? Una domanda che ci costringe veramente a metterci in cammino, a metterci in discussione per capire se siamo disposti ad accontentarci di tutto ciò che cade sotto i nostri sensi o se vogliamo ancora scommettere su un significato profondo di tutto ciò che appare e che ci apre probabilmente a una dimensione altra. Può ad esempio la luce manifestarsi e dire all'uomo qualcosa di se stesso? Può anche la scienza dell'uomo, l'arte dell'uomo, tutto ciò di cui l'uomo è capace può attingere a questa luce, a questa dimensione che dice di una ricchezza molto più profonda dello stesso essere umano? O vogliamo continuare a credere che l'uomo sia un tutt'uno chiuso in se stesso? Già soltanto le relazioni fraterne ci aprono a una sorta di trascendentalità, ovvero della presenza spirituale già nelle nostre relazioni. Nessun uomo può esaurire pienamente il desiderio dell'altro, nessuno può essere il fine assoluto e ultimo dell'altro, può essere un vero compagno, può essere un vero sposo o una vera sposa, ma in un'unione che rimanda sempre a una realtà più grande degli stessi sposi, delle due metà, perché l'uno non è la somma di due, ma è la realizzazione, il compimento di un cammino che vede i due aprirsi al terzo escluso. Ci chiediamo quindi se possono i campi del sapere essere illuminati da questa luce soprannaturale. Per rispondere a questa domanda vogliamo quest'oggi servirci di un altro capolavoro dell'arte. Stiamo parlando del tondo Doni di Michelangelo Buonarroti, un'opera del rinascimento, come sappiamo essere Michelangelo, uno dei più grandi maestri d'arte del rinascimento, che ha realizzato su commissione questo piccolo tondo, nel quale se diamo un'occhiata così molto veloce possiamo scorgere immediatamente l'immagine di una famiglia, ma un'immagine che ci torna familiare perché probabilmente si tratta della Sacra Famiglia di Nazareth. Troviamo San Giuseppe che dall'alto porge, affida il bambino alla Vergine Maria, che seduta sulla terra lo accoglie, lo prende con un movimento proprio torsionale di tutto il busto che si protende verso questo bambino che dalle sue spalle dall'alto sembra scendere. Il movimento appunto è proprio quello di discesa dall'alto verso il basso. Ma guardiamo attentamente quest'opera per capire se questo sguardo dato così di primo acchitto possa realmente rimanere tale o svelarci dei significati più profondi. Partiamo dallo sfondo, nello sfondo troviamo dei personaggi nudi come se facessero il bagno ai bordi di una piscina. Cosa potrebbero essere? Forse c'è un riferimento al mondo pagano, perché se guardiamo dinanzi a loro troviamo vicino a un limite proprio posto alle spalle di questa famiglia San Giovanni Battista, colui che additò l'agnello. E lo sguardo di Giovanni è proprio rivolto verso quel bambino, anzi verso tutto il movimento che da questo padre discende verso la madre attraverso il figlio. Però Michelangelo ha voluto alla sua maniera rendere originale questa icona e se osserviamo le braccia della madre le scorgiamo subito delle braccia molto muscolose e innanzitutto scoperte. L'opera a suo tempo fece infatti scalpore, non si era mai vista una madonna con le braccia scoperte. Perché questa scelta? Tra l'altro delle braccia che sono proprio molto molto robuste esprimono una forza che dal basso sale verso l'alto per poter appunto diventare ospite di questo bambino, per poter prendersi cura di questo bambino. Ma ciò che forse maggiormente ci colpisce è la figura di Giuseppe. Giuseppe normalmente in queste icone della Sacra Famiglia lo troviamo rappresentato sulla destra, ai margini. La protagonista è un po' la vergine sappiamo di questa fecondazione miracolosa, di questo parto altrettanto miracoloso che l'ha lasciata vergine. Dunque l'attenzione è sempre orientata verso di lei. Qui invece San Giuseppe, non vecchio, non sonnecchiante, appare al contrario, bello teso sullo sfondo, molto virile, molto forzuto in tutta l'espressione corporea che l'artista ha voluto dargli, come un vegliardo, qualcuno che dall'alto porge il bambino verso il basso, a questa madre poggiata su terra. L'humus, l'humus della terra diventa il simbolo di questa madre che accoglie un seme dall'alto. Ma allora vuoi vedere che non si tratta proprio della Sacra Famiglia? E se invece, come alcuni teologi hanno affermato, questo quadro esprimesse l'atto dell'incarnazione del verbo, ovvero quello non è San Giuseppe. Quello si rivela essere il volto del padre. Quelle gambe, in maniera anomala, aperte dietro la vergine, che accolgono la vergine tra le gambe, non poteva rappresentare Giuseppe. Era troppo forte, anche forse imbarazzante descriverlo in questo modo. Sono invece le gambe del padre. Sono le braccia del padre che dall'alto del cielo porge il bambino al grembo della madre. E la madre risponde con questa forza, con questa virulenza, che ben ci esprime tutta la sollecitudine della vergine che si è fatta obbediente alla volontà del padre. La vergine anch'essa, con un manto blu, ci dice come è ricoperta di Spirito Santo. Lo Spirito Santo è ciò che dà all'uomo la possibilità di poter accogliere l'eterna novità di Gesù Cristo, il Messia e Salvatore dell'umanità. A questo punto, questo bellissimo dipinto a tempera su tavola del maestro Michelangelo, ci rivela tutti i suoi particolari. Osserviamo la madre, sulle gambe ha un libro chiuso. Cosa può rappresentare un libro chiuso? Sicuramente conoscendo la vergine, da pia ebrea qual era, lei era molto devota alle sacre scritture. E come mai allora queste sacre scritture le tiene chiuse e non aperte tra le gambe? Perché quelle sacre scritture l'hanno aperta, l'hanno iniziata al mistero di Dio che in quel momento si stava compiendo nel suo grembo per opera dello Spirito Santo? Ciò cosa ci dice? Che la scrittura termina laddove inizia l'amore. Tutte le scritture sono orientate all'amore. Quando l'amore si realizza anche le scritture in qualche modo passano. Rimane la parola eterna di Dio in tutta la sua dimensione spirituale, ma ecco che la parola umana lascia spazio al silenzio. E poi abbiamo San Giovanni Battista che ancora di più si rivela essere il testimone dell'incarnazione del verbo e attraverso i suoi occhi possiamo anche noi comprendere meglio il significato ultimo di questo atto. Mentre dobbiamo stare tutti attenti a quelle tentazioni che sono costituite dalle passioni, dall'antichità in generale, intendendo con questo termine tutto ciò che ci condiziona, che abbiamo ricevuto in eredità dai nostri avi, modi di pensare, abitudini, tradizioni che spesso ci chiudono anziché aprirci all'eterna novità dell'incarnazione del verbo. Tutto questo per dire anche cosa? Per poter esprimere con la bellezza quanto la liturgia ci vuole proporre nella domenica dopo Natale, ovvero il mistero dell'incarnazione del verbo. Incontreremo il primo capitolo di Giovanni in cui quel solenne prologo ci introduce a questo infinito mistero, un prologo che inizia con quei termini a noi molto familiari, enarchè enologos, in principio era il verbo. Da quel piccolo dipinto di Michelangelo possiamo ricavare questa profonda unione che c'è tra il padre e il figlio, perché il prologo di questo parla, di questo rapporto misterioso tra i due che in qualche modo si comunica all'umanità. In principio era il verbo. All'inizio di tutto vi è questo verbo eternamente generato dal padre, attraverso cui tutte le cose sono state create. Questa è un'altra immagine che ci consegna il prologo di Giovanni e che ci fa comprendere che questa ragione totale, questo senso che permea tutte le cose è presente appunto nella creazione. Attraverso il logos ogni cosa che esiste, ogni creatura è permeata di sé e quindi è densa di una realtà divina che sta all'uomo ritrovare e cogliere. E davanti a una idea, a un'immagine così grande, ci sconvolge pensare la piccolezza attraverso cui si realizza l'incarnazione di questo logos eterno. E il verbo si è fatto carne e si attendò tra di noi. Cosa ci comunica Giovanni Evangelista? Che colui che esisteva da tutta l'eternità, che era generato eternamente dal padre e che attraverso di lui tutto era stato fatto, ebbene adesso ha le sembianze di un tenero bambino. Ha assunto la fragilità della carne umana. Quale Dio sarebbe stato più amorevole, più misericordioso di quello che ha scelto di farsi vicino all'uomo in questo modo, al punto che Maria, così come ce lo raffigura Michelangelo, in essa raffigurando ognuno di noi, si slancia verso l'alto per accogliere questo puer eternus, come veniva chiamato anche dal poeta Virgilio. Entriamo anche noi in questo grande mistero e con Maria lasciamoci generare alla fede nel bimbo, in colui che salverà la nostra vita e la vita di tutta l'umanità. Auguri di buon anno, pace e gioia. Grazie.